In collaborazione con La Locanda del Cigno Nero Radio Blu Cerchiata Buonasera e benvenuti alla 29esima puntata di Liguria Sportiva che viene onda su questa emittente, TeleLiguria Web TV la pagina Facebook, vi ricordiamo, di Liguria Sportiva ma anche di Radio Blu Cerchiata e naturalmente anche il canale YouTube In trasmissione questa sera con me il mister Tony Odescalchi Ciao Corrado, buonasera a tutti Allora partiamo in questa puntata del giovedì Spazio a Sampdoria-Juendus partita del weekend scorso Sampdoria che perde 1-0 in casa contro i campioni d'Italia che sono appunto diventati i campioni d'Italia sabato alle ore 19.50 bastava un punto ai bianconeri hanno colto la posta piena una Juendus che è venuta a giocare a Genova sapendo appunto che dopo tre giorni avrebbe avuto l'impegno in Champions League comunque formazione quasi titolare addirittura Tevez, Davardi, centrocampo in cui mancava soltanto Pirlo e difesa soltanto con Chiellini che poi è anche entrato nel secondo tempo quindi considerato anche Evra squalificato la Sampdoria che invece è schierata con il 4-3-1-2 con De Silvestri e Mesba sui lati la coppia centrale Silvestre e naturalmente Romagnoli l'inserimento a sorpresa di Rizzo e poi ne parleremo con il mister quindi di questo rientro di Rizzo dopo tre mesi Palombio-Bianco e poi Soriano-Eto e Murio una Sampdoria che è anche partita bene ha avuto un paio di situazioni, di occasioni con soprattutto Obiang ma anche con Eto e Murio all'incontro di Vito e poi appena la Juventus ha un po' forzato e ha trovato la prima situazione derivanti anche, lo vedremo nell'angolo tattico da un infortunio di De Silvestri che è uscito a bordo campo quindi fascia destra, Sampdoria scoperta ripartenza Juventus, pala recuperata al centrocampo crossa al centro e vi dà il solo soletto dopo che il giorente aveva sbagliato il colpo di testa a insaccare contro Viviano quindi Sampdoria appunto che poi non riesce a rimontare nella ripresa a mezz'ora di Torello-Juventus Sampdoria fuori ritmo, molle nei contrasti non riesce mai a ripartire solo in una circostanza con Eto che imbecca Berghessio entrato salvato il tutto con un gran bel tiro salvato da Bonucci quindi ha buffo un battuto Juve che va vicino al raddoppio con Tevez e poi purtroppo finisce 0-1 quindi Sampdoria che cade in casa dopo 12 mesi perché l'ultima sconfitta sale 2-5 contro il Napoli dell'11 maggio 2014 quindi il primo commento con il nostro mister quindi di questa sconfitta e il perché soprattutto secondo lui quali sono appunto i problemi in questo momento della Sampdoria Per me i problemi della Sampdoria in questo momento sono praticamente psicologici e anche se vogliamo un po' fisici primo tempo squadra sicuramente intensa che ha dato del filo da torcere alla Juventus ha fatto la partita che doveva fare ha aggredito la Juve molto alta e infatti la Juve in 3-4 situazioni si è trovata in clamorosa difficoltà proprio perché gli attaccanti di Mielovic ci hanno pressato molto alto nella metà campo avversaria e devo dire che ha creato anche 2-3 situazioni importanti che potevano concludersi meglio potevano finire in rete c'è però purtroppo poi il solito problema che è un periodo che nella ripresa la squadra poi comunque inevitabilmente e in maniera anche clamorosa secondo me cala a livello di intensità fisica prestando proprio il fianco agli avversari Corrado nel senso che abbiamo visto la Juventus hai detto bene tu ha fatto mezz'ora di Torello ricordo un'azione che è durata tipo 2 minuti e mezzo e si è conclusa con un tiro in porta da parte di Tevez sembrava quasi di vedere il Real Madrid nella Liga Spagnola quando fa un possesso come il Barcellona di 2-3 minuti poi alla fine va a fare gol questo è inspiegabile è inspiegabile perché è una squadra che doveva comunque avere più motivazioni in quanto comunque la Juventus sappiamo che se non avesse fatto il risultato con la Samp Sabato avrebbe comunque vinto lo Scudetto 99 su 100 la domenica successiva contro il Cagliari e dal punto di vista psicologico perché io non riesco a capire com'è possibile che si giochi con 3 punte con 3 quartisti un attaccante insomma in maniera molto offensiva e te li in porta siano veramente rosicati non si va a calciare non si ha il coraggio di tirare in porta dal limite che è una cosa inspiegabile e soprattutto io vedo poco coraggio anche nelle giocate sugli esterni nel senso che quando la Samp cerca di fare queste imbucate in mezzo al campo e portarsi in area di rigore con giocate di prima intenzione fra i 3 attaccanti che possono essere Muriel Eto e come abbiamo visto Soriano privilegiando probabilmente la qualità dei giocatori stessi però poi alla fine non si va a calciare in porta si torna indietro si gioca sull'esterno ma gli esterni fanno una cosa che a mio parere è sbagliata ovvero tornano indietro e quindi nel momento in cui si fa questo la difesa avversaria è già posizionata non si può più sorprenderla non si riesce a fare più giocate in velocità in verticale e quindi io credo che a questo punto serva un pochettino di psicologia da parte dell'allenatore nel cercare di infondere un po' più di coraggio a questa squadra perché nel momento in cui si fa una ripartenza e non si fanno dei tagli ma si torna continuamente indietro cercando di aggirare l'avversario e quando l'avversario è piazzato in area di rigore che sia Juventus che sia Cesena il gol è difficile non riuscire a farlo infatti il gol è un problema in questo momento per la Stantola tu giustamente avevi detto la Juventus non è venuta chissà a far che partire a Genova io aggiungo che la Juventus avrebbe vinto lo scudetto anche perdendo con la Sampdoria perché poi la Lazio ha pareggiato 1-1 con l'Atalanta quindi insomma abbiamo già fatto questo discorso il fatto che la Sampdoria gioca sempre in anticipo in queste giornate porta anche a resta penalizzata da questo punto di vista perché ripetiamo se io immagino con il secondo di poi tutto è facile un'Atalanta-Lazio in contemporanea con la Juventus un'Atalanta in vantaggio che gestisce la partita non penso che la Juventus sarebbe stata ancora più propensa a rimanere ancora solo 1-0 attenta cattiva fino alla fine perché appunto la Lazio comunque non avrebbe vinto lo scudetto ma in maniera impossibile avrebbe raggiunto la Juventus perché comunque la Juventus domenica ha il Cagliari quindi figuriamoci però una Sampdoria appunto ha detto tu fa fatica a segnare lo dicono anche i numeri quindi Sampdoria che non vince in casa da tre partite 30 punti erano stati fatti in casa il resto naturalmente 30 al cospetto poi dei 21 fatti in trasferta soprattutto una imbattibilità abbiamo detto che è caduta e poi un dato statistico importante l'assenza di Eder che sapevamo assolutamente che sarebbe stata pesante ecco già nei numeri si capisce Eder ha fatto 9 reti e questo lo sappiamo tutti quanti il resto del reparto offensivo che rimane ovvero Okaka naturalmente Bergessio Muriel e To insieme hanno fatto 10 gol quindi 4 Okaka e Muriel naturalmente Muriel giocando un minutaggio nettamente inferiore a quello di Okaka 1 e 2 e 1 Bergessio quindi 4 attaccanti non fanno Eder e manca purtroppo però Eder quello che manca in questo momento da Sampdoria ecco ti chiedo innanzitutto il problema del reparto offensivo che abbiamo visto abbiamo giocato con i 4-2-3-1 senza segnare 4-3-3 nelle ultime partite faticando 4-3-1-2 faticando quindi non è una questione di moduli ma è una questione da che punto di vista tu la interpreti e soprattutto ripetiamo un esempio clamoroso Okaka l'anno scorso 5 eredi in 13 partite quest'anno oltre 30 partite soltanto 4 gol è una questione che bisogna tirare in porta cioè bisogna arrivare al limite dell'aria o anche in area di rigore e liberare il tiro se l'azione è manovrata lenta come sta succedendo purtroppo ultimamente nel momento in cui si va a cercare una soluzione per andare al tiro la difesa avversaria è già bella che è posizionata e succede addirittura che come magari nell'occasione di Bergessen nella ripresa comunque Bonucci riesca ad arrivare sul pallone e a deviare cioè io vedo veramente rispetto a un paio di mesi fa poca cattiveria poca propensione a queste famose ripartenze cioè io credo che da quando la Samp abbia cominciato a parlare di ripartenze giochiamo sulle ripartenze a Roma abbiamo venuto con la ripartenza a Firenze andiamo a giocare con le ripartenze si è smesso perché comunque poi gli avversari ti conoscono sanno qual è il tuo punto forte il punto forte della Samp era appunto il ribaltamento di fronte e le giocate in velocità le giocate manovrate le squadre avversarie dal mio punto di vista Corrado hanno capito questo e quindi hanno una copertura preventiva delle traiettorie quindi si mettono già in traiettoria di quello che potrebbe essere il passaggio della squadra di Mielovic e di conseguenza fanno un passo e muovono la difesa come a scacchino fanno un passo e si mettono coperti a questo punto serve il giocatore guizzante il giocatore che crea la superiorità numerica potrebbe essere To e To tutte le volte poteva essere anche Der poteva essere Der assolutamente ma visto che Der non c'è e quindi sappiamo che non ci potrà neanche essere io credo che la Samp li abbia i giocatori perché Eto e Muriel sono due giocatori che assolutamente devono creare la superiorità numerica ma nel momento in cui saltano l'uomo tornano indietro fanno un passaggio io è questo che non riesco a capire ci sarà sicuramente un perché e sicuramente Mijalovic avrà dei dettami tattici per cui questo non avviene ma a mio avviso nel momento in cui si crea la superiorità numerica ogni tanto bisogna anche calciare in porta soprattutto con giocatori che ce l'hanno perché abbiamo visto che Muriel il tiro ce l'ha e To ce l'ha se non tiriamo diventa difficile fare gol è un problema dicevi anche tu diciamo dal punto di vista anche tattico perché sì la Samp non ti importa però giustamente ricordavi anche tu molte volte ci erano fatte delle ripartenze per ripartire bisogna fare anche un pressing alto bisogna avere anche una condizione fisica importante per comunque pressare alti e poi ripartire perché naturalmente se recuperi palla nella tua area di rigore poi devi fare 60 metri di campo per arrivare in porto se la recuperi a 30 metri devi fare la metà del percorso e arrivi più facilmente in porto quindi bisogna un attimo da questo punto di vista anche cercare di quadrare il cerchio a centro campo e quindi ti dico come vedi lo schieramento a tre che ha appunto inserito Sinisa Mijalovic contro la Juventus ripertendo ancora la partita contro il Verona e appunto la presenza di Rizzo dopo tre mesi in campo da titolare l'ultima sarà appunto a gennaio quindi questo rientro tra virgolette perché comunque è stato infortunato naturalmente Luca Rizzo nell'unico titolare con poi l'ingresso di Duncan che almeno a differenza degli altri centrocampisti l'unico Bianco ci ricorderemo il primo tempo prova il tiro perché Duncan nel secondo tempo il tiro lo ha provato almeno due volte non solo Duncan è anche un giocatore che rispetto a tutti gli altri centrocampisti cerca di verticalizzare in maniera più frequente il gioco lo abbiamo detto tante volte lo abbiamo detto anche mi sembra la puntata scorsa c'è un concetto fondamentale nel gioco del pallone che è il concetto tempo e spazio quindi che ti è molto caro che mi è molto caro cioè nel senso più tempo si occupa si ha per occupare lo spazio della squadra avversaria quindi la metà campo avversaria e meno si ha la possibilità di fare gol meno tempo si mette più possibilità ci sono di segnare se per andare dalla parte opposta ci vuole il doppio del tempo che ci si mette abitualmente è chiaro che le difese avversarie si schierano e non puoi più sorprenderle questa è una equazione che è matematica ed è la palissiana cioè in questo momento la Sampa ha una difficoltà clamorosa nella gestione della palla lo si vede fare possesso palla serve ma il possesso palla serve se poi a un certo punto trovi un'imboccata in velocità fai uscire la difesa porti la squadra magari avversaria a spostarsi tutta da un lato per poi fare uno scarico e cambiare dall'altra parte questo non sta avvenendo ultimamente anzi siamo veramente in maniera proprio non so neanche come poterla definire la Sampa in questo momento è una squadra straprevedibile regredita ma più che regredita la Sampa è regredita in tante situazioni ultimamente basti pensare che comunque avendo fatto due punti nelle ultime quattro partite se non sbaglio è comunque sesta in classifica questo vuol dire veramente che da un lato è buono dall'altro la Sampa ha sprecato delle occasioni che a quest'ora poteva tranquillamente essere bella che tranquilla per l'Europa non solo è regredita è proprio una squadra che è prevedibile cioè nel momento in cui un giocatore ha il pallone ha il possesso il giocatore avversario sa già dove potrebbe andare questa palla e quindi qua parliamo torniamo a quello che dicevo prima con le coperture preventive cioè basta un movimento della difesa avversaria del centro campo avversario ed è lo spazio bello che è chiuso eh sì spazio bello che è chiuso doveva essere spazio bello che è chiuso anche in fase difensiva sul gol che ha portato la Juventus alla vittoria perché sta di gol domani decisivo eh derivanti da un infortunio di Desilvay sicuramente Desilvay è un giocatore che sta portando la carretta avanti egregiamente dall'inizio del campionato tre redi per lui però naturalmente manca eh diciamo comunque quel pezzo di partita quei due o tre minuti che è dovuto uscire per l'infortunio Sampdoria che riparte nell'azione palla per persa al centro campo da Palombo ripartenza appunto e cross dal lato destro dell'attacco della Juventus quindi sinistro difensivo blucerchiato palla che scavalca tutti Llorente non la prende vi dà il solo soletto e insacca ecco lì Drummond è sempre che prende gol in contropiede quindi poi ci spiegherà anche il mister l'errore soprattutto doveva già vi diciamo Drummond ma lo sapete anche voi magari cerca di scalare anche la mezza la testa in quel caso Rizzo però è stata un'azione così veloce e tra virgolette anche derivante dal contropiede che non c'è neanche il tempo per fare le cose ecco prima un commento su questo errore difensivo e poi stesso il mister dopo il suo commento alla lavagna ci spiegherà appunto anzi magari può farlo anche insomma spiegando la lavagna proprio questo errore a monte che ha portato appunto il gol di Vitale quindi il gol decisivo per la Juventus ma guarda facciamo una cosa mi alzo vado alla lavagna e facciamo vedere un attimino quella che poteva essere la situazione del gol precisando una cosa non è solo un errore difensivo qua è proprio un errore di gestione della squadra cioè proprio è una gestione sbagliata della situazione da parte di tutti da chi aveva il possesso palla da come era messa la difesa e anche dai centrocampisti perché comunque in questa situazione qua si affista la fotografia di una squadra che non ha personalità che non ha la cattiveria che dovrebbe avere una squadra che ha un obiettivo e questa è una cosa molto molto grave dal mio punto di vista e quindi adesso insomma vediamo con il mister andiamo un attimino a vedere quello che poteva essere diciamo questo tipo di situazione la Samp aveva possesso palla ricordiamolo quindi De Silvestre era fuori ma la rimessa laterale era per i blucerchiati quindi la Samp ha fatto una gestione di possesso palla già lì sbagliata perché comunque con un uomo in meno dal mio punto di vista si deve cercare più che si può di tenere il pallone affinché non rientra il giocatore mentre invece la Samp ha provato a fare un'azione offensiva va benissimo ma con l'uomo in meno rischiando la ripartenza ripartenza che puntualmente è avvenuta mancando quindi il terzino la distribuzione diciamo della difesa con il cross che è venuto da questa parte di campo lo possiamo vedere la difesa qua esce il terzino vanno a fare diagonale quindi a scivolare i due centrali e chiaramente qua in questa situazione dovrebbe esserci De Silvestri non c'è De Silvestri doveva essere la scalata fatta da parte di Rizzo quindi un giocatore che fa la mezzala viene a coprire temporaneamente il terzino che diciamo è fuori per infortunio invece questo non è avvenuto da questa parte qua Vidal era completamente solo traversone nessuno che ha ostacolato Vidal e quindi qua non c'era l'uomo che poi lo andava a seguire per fare la famosa diagonale e lui ha fatto gol in maniera incontrastata questo è il primo errore però questo è un errore ci può stare diciamo una ripartenza quindi comunque la squadra messa male può anche starci la cosa più grave dal mio punto di vista è che nella ripartenza non c'è stato un giocatore che abbia fatto un fallo tattico per fermare l'azione della Juventus cioè è assurdo cioè noi abbiamo visto come per esempio Palombo che era lui il preposto in quella situazione bastava tirare uno sgambetto da dietro ma neanche in maniera cattiva fermare proprio l'azione fermare proprio l'azione tirare la maglietta fare tutto quello che poteva essere diciamo nelle sue possibilità si fermava si prendeva un giallo ci poteva stare ma nel frattempo rientrava De Silvestri la Samp si metteva in difesa e non c'era più la situazione di inferiorità numerica che poi secondo me è stata quella che ha portato al vantaggio della Juventus questa è una cosa veramente veramente grave dal punto di vista della Lavagna io penso di poter aver detto quello che c'era da dire finisco dicendo che cosa dicendo che questi tipi di situazioni si stanno verificando in maniera repentina ultimamente ma si stanno verificando proprio con dei giocatori che sono qua da anni ricordo il preliminare di Champions League dove comunque in mezzo al campo nessuno fermò il giocatore del Berder e un fallo tattico che ci avrebbe portato ai gironi e invece questo non è avvenuto e la Sampdoria è stata eliminata e questo non ricordiamoci anche di segnare esattamente evitiamo tutte queste situazioni ultimamente queste situazioni si sono verificate tantissime volte e questo non può non può avvenire credo che la maturità di una squadra sia anche quella di capire quando spegnere dei cartellini in maniera positiva o meno tante volte prendiamo dei cartellini gialli in una maniera inutile per un fallo magari girato sulla trequarte avversaria con l'uomo girato che quindi non avrebbe mai fatto nulla qua era un cartellino da prendersi non è stato fatto e poi chiaramente se poi concedi spazio a una squadra come la Juventus lei ti punisce eh sì la Juventus punisce la Sampdoria e appunto i bucerchiati quindi perdono l'imbattibilità in tenere abbiamo già detto quindi insomma dopo questo angolo dedicato alla Sampdoria anche per l'onore di classifica perché ricordiamo naturalmente Juventus prima Sampdoria appunto sesta ci dedichiamo naturalmente anche alla squadra rosso-blu al Genoa che è in corsa per l'Europa Lega un punto dietro la Sampdoria quindi in segue i bucerchiati per l'ambito traguardo europeo è un anno Genoa che andava appunto domenica ad affrontare la Roma sfida comunque difficile sfida importante se vi ricordate l'andata quella sfida incrociata Juventus Sampdoria e Genoa Roma era la sfida delle prime quattro in classifica si respirava veramente un'aria importante a Genoa perché appunto comunque era una sfida di altissima classifica che è ancora sfida di alta classifica un Genoa che è andato appunto a Roma perdendo 2-0 purtroppo primo gol errore difensivo e poi lo spiegherà il nostro mister di Roncaio un Genoa che si è schierato a quattro con Izzo che sostituiva Burdiz quindi dolce Roncaio e De Maio con l'inserimento di També il punto francese emaliano e poi Rincon Bertolaccio e Kucca e poi l'attacco a sorpresa con Lestien Niang e Bergdiz a sinistra quindi Iago Falchè soltanto 45 minuti per lui per fare la differenza che non è riuscito comunque a fare un Genoa che nel secondo tempo è salito di intensità ha provato a pareggiare ha avuto anche qualche chance il possesso di palla ma poi negli ultimi minuti Florenzi una ripartenza devastante costo costo all'area di rigore un Florenzi che è informissimo basta di pensare anche all'ultimo gol fatto con Sassuolo è andato dritto fin in porta e anche lei un errore forse simile a quello che ha portato a gol di Vidal ovvero nessuno ha fatto fallo a centrocampo in ripartenza e Florenzi ha fatto una discesa ripetiamo un gol quindi un commento anche su questa prestazione appunto del Genoa sconfitto 2-0 a Roma ma tanto partiamo da un presupposto secondo me è una sconfitta che poteva e ci può stare perché andare a Roma è una situazione del genere è vero che la Roma è una situazione così importante dal punto di vista psicologico e forse anche atletico però comunque è una squadra che ha il fiato aveva il fiato della Lazio e quindi aveva l'obbligo di dover arrivare seconda in classifica oltretutto sarebbe un fallimento secondo me se la Roma arrivasse seconda perché rispetto alla Lazio aveva delle ambizioni completamente diverse per cui quindi ci può stare la sconfitta della Roma come ci può stare la sconfitta della Samp quello che purtroppo accomuna a queste due sconfitte è che sono delle occasioni che magari andrebbero sfruttate meglio molto più grave secondo me la sconfitta della Samp perché ne viene da un periodo veramente negativo qua il Genoa però secondo me ha fatto un buonissimo secondo tempo dove nei primi dieci minuti è riuscita quasi a impensierire in maniera importante De Sanctis con specialmente il tiro di Falke neutralizzato dal portiere giallorosso sì perché Falke è sempre quello più pericoloso assolutamente si è vista proprio la differenza comunque quando è entrato il giocatore nel primo tempo secondo me è un Genoa forse troppo impaurito forse anche per la formazione un po' inedita che ha messo Gasperini una difesa comunque secondo me che necessitava di maggiore attenzione nelle situazioni offensive perché comunque anche il gol che è stato diciamo preso è un 3-4-3 mascherato quello che ha fatto Gasperini non è solamente lo stop sbagliato di Roncaglia secondo me è anche proprio l'errore di posizionamento del difensore Genoano perché comunque era in una posizione stranissima perché non riesco sinceramente a capire il terzo centrale perché doveva stare in quella posizione lì praticamente c'erano due giocatori della Roma lui e del Genoa lui era in mezzo ai due come perno sembrava quasi di giocarsi davanti alla difesa non ho proprio capito la posizione tanto è vero che mi sembra che Gasperini nel post partita ha detto non è tanto lo stop ma io non capisco dove era Roncaglia diciamo che Roncaglia non è nuovo a questi errori l'ha fatto nel derby ma secondo me è un giocatore importante perché comunque è un giocatore che dà tanto un giocatore veramente di carattere e secondo me è anche un giocatore che si sente a lungo andare in maniera positiva nella squadra ha purtroppo queste defiance che quest'anno sono risultate decisive perché il derby domenica con la Roma insomma hanno portato via dei punti alla squadra di Gasperini che magari poteva essere anche più alta in classifica qualche rosso di troppo anche insomma di Roncaglia lui è un giocatore abbastanza di carattere di buon temperamento per cui quello lo puoi mettere in conto quello che è più particolare è proprio la posizione sbagliata che ha avuto Roncaglia in ogni caso nel secondo tempo poi secondo me Ingeno ha fatto un buon possesso palla tant'è vero che il possesso palla è a favore della squadra di Gasperini però purtroppo tiri in porta ce ne sono stati pochi forse c'è stato un leggero forse in finale nella ripresa con la Roma in palesi difficoltà fino ad arrivare alla ripartenza l'abbiamo visto nulla a togliere al grandissimo gol di Florenzi che è veramente un giocatore completo ed è un giocatore veramente moderno veramente a me ricorda Lam nel senso che comunque un giocatore che dove lo metti gioca ed è incredibile io credo che una situazione di 3 contro 2 cioè 3 difensori del Geno contro 2 giocatori della Roma fai 90 metri di campo palla al piede al 94esimo minuto tira la maglietta invece questi l'hanno lasciato andare e poi lui ha fatto gol non è neanche facile perché dopo che fai tutto quel campo con quel caldo alle 12.30 alla fine della partita riuscire a bere anche la lucida di buttare la palla in rete vuol dire che veramente sei un giocatore di spessore lì però è un errore clamoroso del Genoa perché la ripartenza la posso capire sei in svantaggio 1-0 sei nel recupero vuoi recuperare la partita quindi porti più effettivi davanti però nel momento in cui sei 3 contro 2 e vedi che un giocatore riesce ad arrivare a Florenzi tiragli la maglietta finisce il discorso magari perdi 1-0 però magari hai ancora un minuto per poter recuperare la partita e tutto può succedere nei minuti finali quindi abbiamo fatto già un ragionamento insomma tu hai portato anche il discorso di Roncaia in generale voglio chiederti anche dal punto di vista e poi ripeto adesso noi portiamo già avanti con i discorsi poi li vediamo messi alla lavagna il cambiamento di giocare a 4 ricordiamo che comunque Gasperini quando gioca a 3 uno dei tre centrali scende sempre tantissimo e si sovrappone quasi all'esterno destro o sinistro quel che sia quindi giocare a 4 è veramente una variante molto particolare perché comunque entrambi i terzini tendono a spingere però vediamo che a destra ha giocato Roncaia è comunque un giocatore che è piazzato lì per la fase difensiva perché ricordiamo lì ha giocato Gervinio perché la Roma ha giocato con Gervinio Ibarbo e Dumbia quindi il trio insomma di colore con Totti in panchina a riposare Liaici in panchina e dall'altro lato invece També che ha giocato pochissimo quest'anno comunque poteva giocare Bergdic poteva giocare naturalmente una situazione comunque diversa da quel lato si è stato scelto També anche per una questione di turnovere ecco anche dal punto di vista centrali invece Izzo sì sì abbiamo già detto quindi Izzo e De Maio con Burdisso appunto che non c'era ecco quindi ti chiedo proprio le varianti da questo punto di vista e se è giusto in questo caso perché come lo abbiamo spiegato altre volte ma magari tu rafforzi il concetto quando una squadra attacca a tre è difficile frapporsi a questa squadra con una difesa a tre è meglio avere sempre un uomo in più per creare comunque una spaziatura migliore del reparto difensivo devo dire che Gasperini è un credente al 100% del 3-4-3 quindi della difesa a tre non è sempre logica l'equazione che se la squadra avversaria gioca a tre tu non devi difendere a tre perché se no non vuoi concedere la parità numerica ma deve avere sempre la superità numerica perché il concetto della difesa a tre si basa su che cosa si sui tre centrali ma si basa anche che gli esterni le corsie laterali vengano comunque a dare manforte alla difesa per creare quasi una linea difensiva a cinque magari a volte a quattro con diciamo l'esterno che nella parte debole rimane alto invece dal lato forte della squadra avversaria si abbassa però fondamentalmente ecco il 3-4-3 in fase di non possesso potrebbe considerarsi un 5-4-1 secondo me perché Gasperini ha preferito giocare a quattro perché probabilmente conoscendo la velocità degli attaccanti della Roma specialmente di Gervinio preferiva comunque avere la possibilità anziché di avere l'uomo che deve rientrare dalla fascia quindi comunque essere stanco per le sortite offensive e tornare indietro avere la possibilità di avere una superiorità numerica quindi magari saltato il primo uomo Gervinio comunque deve avere a che fare con altri 3 difensori probabilmente è anche questo la soluzione io credo credo che comunque Gasperini abbia giustamente fatto riposare certi elementi perché comunque tra partite una settimana non è una cosa abituale per le squadre come le nostre come Genoa e Samp a fine stagione a fine stagione tu giochi con squadre che sono abituate a fare 60-65 partite all'anno Samp e Genoa a parte 3 o 4 di Coppa Italia in più non vanno mai oltre ultimamente ai noi alle partite di campionato 40 partite 42 esattamente a questo punto visto come abbiamo messo la disposizione tattica della squadra della difesa di Gasperini ancora più grave il posizionamento di Roncaglia cioè terzino destro che si trova praticamente davanti alla difesa in posizione centrale non ho capito assolutamente sono onesto il perché si è trovato lì ma l'errore è palese nel senso che tu lasci scoperta la difesa e se vogliamo la Roma non ha neanche attaccato dal lato in cui era da attaccare perché mancava il terzino non c'era stata la scalata perché è una ripartenza della Roma perché c'è un passaggio sbagliato in mezzo al campo da parte del Genoa ripartenza palla nel mezzo e Roncaglia nel tentativo di recuperare concede la palla poi a Dombia che va a fare il gol ma se vogliamo la difesa del genere ha messa come c'erano i due centrali c'era davanti a loro appunto Roncaglia in una posizione inedita che sbaglia e il terzino sinistro diciamo dal lato opposto in difficoltà perché stava rientrando quindi insomma a questo punto l'hai spiegato anche naturalmente a parole anticipiamo un attimo facciamolo vedere possiamo anche naturalmente spiegarlo anche sulla lavagna così poi ci portiamo anche avanti tra virgolette col lavoro quindi così lo spieghiamo e lo capiamo anche facciamo capire ai nostri telespettatori allora cancelliamo qua riesco a trovare eccolo qua dunque c'erano i due centrali che sono posizionati come vediamo e Roncaglia doveva essere in questa posizione di campo d'accordo lui invece si è trovato qua ripeto non capisco assolutamente forse probabilmente avrà fatto ora non mi viene in mente l'azione probabilmente una sortita offensiva si è ritrovato poi a recuperare in questa maniera qua forse per eccesso di generosità io non so di per certo la Roma giocando palla da questa parte qua probabilmente è una squadra in un'altra situazione in maniera un po' più lucida si poteva pensare attacco da questa parte qua perché qua c'è proprio tutta la corsia libera vado in porta per un motivo o per un altro probabilmente perché qua c'era Dumbià che stava aspettando la palla si è cercato subito la verticalizzazione per prendere in controtempo la difesa del Genoa che quindi alla fine difendeva effettivamente con due difensori perché il terzino era lontano e stava recuperando Roncaglia si è messo di qua tant'è vero che poi Dumbià si è trovato davanti a due difensori e l'ha bevuti con una finta però erano di fatto due difensori soli in questa situazione qua Roncaglia tornando indietro ha la difficoltà del posizionamento del coordinamento quindi una palla data in maniera decisa perché un passaggio deve essere ricordiamolo non può essere un passaggio mollo ma deve essere un passaggio bendato lui impatta il pallone da questa parte qua e quindi in poche parole fa un altro assist alla Roma e a quel punto la squadra giallorossa si è trovata la porta spianata non lo so sicuramente Gasperini si è arrabbiato tantissimo perché comunque la posizione di un terzino destro che finisce da questa parte qua è quanto più inusuale sicuramente questo è un limite che a Roncaglia lo abbiamo visto quest'anno Corrado un ottimo giocatore che però ha delle defiance che poi purtroppo spessissime volte sono risultate decisive e sì quindi insomma abbiamo cercato di controllare naturalmente il gol subito dalla Genoa adesso cerchiamo anche di capire il perché delle scelte di Gasperini davanti ricordiamo che naturalmente in questo momento con l'assenza di Perotti che è un'assenza grave un'assenza importante che però è stata già comunque ampiamente ammortizzata contro il Milan anche se il Milan in questo momento è una squadra allo sbando quindi però il Genoa comunque è andato a San Siro ha fatto la sua partita ottima con un Iago protagonista un Iago che è entrato falché che è entrato gli ultimi secondo tempo con Yuki gli altri 45 minuti non è riuscito a fare la sua solida grande partita anche perché al primo tempo comunque tutto il peso dell'attacco era su Niang che comunque è un attaccante che sta dimostrando il suo valore al Genoa cosa che non ha fatto al Milan però quando ti trovi a dover giocare con dei supporti come Laksa e Berdic con tutto il rispetto è obbligato anche riuscire a dialogare con due giocatori che non sono prettamente di quel ruolo perché sono due giocatori comunque al massimo esterno di centrocampo portarli davanti ecco ti chiedo il perché di questa scelta solo di Niang quindi con Iago a riposare va benissimo dopo il limba settimanale però è una partita importante questa per il Genoa poteva essere l'occasione per scavalcare la Sampdoria e quindi mettere il giocatore più forte in panchina io credo sia stato un po' un azzardo soprattutto poi considerando che né Pavoletti e né Borriello sono entrati noi possiamo pensare che Gasperini puntasse anche sul fatto che la Roma probabilmente Gasperini pensava che la Roma e di fatto così è stato potesse fare un primo tempo importante e quindi alle 12.30 con il caldo con tutte le condizioni di attoferere guardiamo che adesso il primo caldo arriva nel mezzo di maggio e stronca abbastanza le gambe perché non si è abituati magari con l'inserimento di Iago Falchè nella ripresa poteva essere più semplice andare ad attaccare la Roma perché magari è una squadra che poi in effetti si è dimostrata in difficoltà fisica tenuta solo su da Florenzi poteva essere appunto una soluzione è chiaro che come abbiamo detto prima per Eder Perotti non c'è e non ci sarà e lo sappiamo sono due giocatori fondamentali Perotti in questo senso è un giocatore che l'abbiamo detto anche la settimana scorsa crea superiorità numerica viene spesso in mezzo a prendersi palla gioca sui tagli dei compagni questo non c'è non ci può essere perché appunto il giocatore è infortunato abbiamo detto la settimana scorsa come il Gena probabilmente doveva giocare in maniera più tattica più ligia alla tattica pura del 3-4-3 questo è avvenuto ma è chiaro che quando manca l'imprevedibilità di Perotti manca l'imprevedibilità di Eder ne vai a risentire le nostre sono squadre purtroppo che non hanno quei giocatori che possono avere le grandissime e che quindi ti riescono a risolvere una partita dal nulla sono giocatori che però purtroppo quando vengono a mancare risultano decisivi e ai noi lo abbiamo visto magari già in queste ultime partite e se quindi insomma abbiamo cercato di spiegare il perché di queste sconfitte dalle Genovesi contro le prime due della classifica perché naturalmente Juventus e Roma comunque meritano la classifica che hanno quindi Juventus già campione d'Italia è Roma che lotterà fino all'ultimo con Lazio e Napoli per il posto Champions adesso è il momento della pubblicità